I paletti del mercato biancazzurro, come già ricordato, l'imperativo è sfoltire l'organico. La ripresa del campionato è stata posticipata, contagi permettendo sabato 22 gennaio. A maggior ragione le società prendono tempo. I casi più spinosi, Valdifiori e Galano, che hanno in essere contratti onerosi, e poi vari Marilungo, Rizzo, Bocic, senza considerare in zita che Pescara ha acquistato dal Perugia, andrà via solo a fronte di un'offerta congroa. La novità riguarda Frascatore, che ha rifiutato prima Teramo, poi Monopoli, ed ora il difensore Mancino, 30 anni appena compiuti, potrebbe restare. Pertanto congelato l'arrivo di Minelli. Già nella primavera del Delfino, campionato 2017-2018, ex Bari, prima parte dell'attuale stagione nel Cosenza MB, ma di proprietà della Juventus. In attacco l'idea è di ingaggiare un esterno Mancino, non sarà Borello del Crotone. Il DS Ursino ha detto che non si muoverà dal club calabrese, anche alla luce del ritorno in panchina di Francesco Modesto, che stima in un poco il classe 99 già le sue dipendenze nel Cosenza. Si parla anche di Jacopo Murano, 32 anni a febbraio, in uscita dal Perugia, che lo ha acquistato dal Potenza due stagioni orsono. Dal punto di vista fisico, Murano è una prima punta, per caratteristiche una seconda punta. Nel 3-4-3 potrebbe agire solo da riferimento centrale. Sarebbe l'alter ego di Ferrari. Non è un'operazione che ci convince, a prescindere dai costi. Il Perugia non lo darà affatto gratis. Sull'attaccante è concreto l'interesse di Modena, Reggiana e Sio di Tirol. La sensazione, lo ribadiamo, è di far crescere Blanuta alle spalle di Ferrari, rinunciando molto probabilmente a De Marchi che in Cia mercato. Per inciso, Blanuta piace non poco al Napoli. A centrocampo, già detto di Giambo, attenzionato dalla Ternana, la trattativa potrebbe prendere corpo, ma il franco-senegalese lascerebbe il Delfino solo al termine dell'attuale stagione. In uscita Rizzo, ma il sostituto non sarà collo della Cremonese, che ha caratteristiche da mezzala e dunque assai poco funzionale, al 3-4-3 di Gaetano Auteri.